Il 27 gennaio scorso, a bordo di un'auto presa a noleggio, si sarebbero recati da Catania fino nel Ragusano per tentare una rapina in casa di un 24enne che, colto nel sonno, sorprese i malviventi che fuggirono senza portar via nulla dopo averlo minacciato di morte. È l'accusa per tre catanesi ora sottoposti a obbligo di rimora. Le indagini erano state avviate subito dopo la denuncia da parte della vittima e i carabinieri accertarono, visionando le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona, che i tre erano arrivati a bordo di una Fiat Bravo di colore grigio e che si erano introdotti in casa della vittima arrampicandosi lungo il tubo del metano.